noi si capisce piuttosto che quei mostri perché non arruolano le donne per il reggimento della guardia il reggimento non è comandato da una donna però porta i calzoni già perché i soldati sono costretti a mettersene sottane giusto fate silenzio pidocchi appiedati cremo tutto che paura eri tu che parlavi della principessa vero? si signor generale dove vai alessio? dove vuoi che vada? dalle mie pecore? addio boris addio ma arruolati da miretta fai presto tutti abito ricordatevi Altezza che stasera avete pranzo di gala per la festa del reggimento ma si me lo ricordo e voi perché siete qui? Altezza da quando in qua si entrò nelle mie stanze senza farsi annunziare? poco fa mi è sembrato di vedervi turbata afflitta la mia devozione per voi mi spinge ricominciate Altezza siete crudele tutta la vostra generosità la bontà del vostro cuore dove sono? voi mi respingete mi umiliate so che un altro uomo è più fortunato vi proibisco di conti Altezza vi prego vi scongiungo uscite Tatiana Altezza riflettete Tatiana riaccompagna il conte grazie a tutti